Leggi la Bibbia, Fred? Eh? La Bibbia? Sì. Allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Malvagi, malvagissimi! Perfetto, continuo pure, molto bravo! Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre. Che palle! Perché egli in verità è il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. Ma in effetti è stata un'esperienza ad un livello spirituale. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare ed infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore! Quando farò calare la mia vendetta sopra di te? In che senso?